E quindi per le conclusioni chiamo Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e della città metropolitana. Può decidere se andare al palco, può decidere se sedersi qua. Se lo faccio, non sembra che faccio qualcosa di diverso. No, no, assolutamente. Questa volta, qualsiasi dettaglio. Assolutamente, assolutamente. Beh, allora, intanto, grazie l'invito, vuoi fare una domanda? Sì, no, 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 io volevo solo sottolineare che ancora in tempi non sospetti, cioè quando ancora non era sceso in campo, in politica, Luigi Brugnaro al brand di Venezia ha dedicato sempre molta attenzione. Pensare Venezia è sempre stato un suo punto di riferimento. Per cui credo che oggi la sua presenza qua sia importante, non solo perché ovviamente è il sindaco di questa città, è il sindaco della città metropolitana, non solo perché è un imprenditore e quindi ovviamente ha un punto di vista molto particolare sui temi che stiamo affrontando, ma anche perché sul marchio Venezia è certamente stato uno dei primi a puntare, a credere, superando anche all'inizio una serie di difficoltà e di diffidenze. Prego. Che questo Incip non me l'aspettavo, devo dire la verità, è una cosa abbastanza rara. Però può darsi che sia anche il segno di tempi nuovi, di riflessioni che si possono fare negli anni. Tutti alla fine possiamo piano piano cambiare idea, no? Cioè, credo che l'imprenditore ultimo che ha parlato adesso, che insomma, apre il cuore per capire che insomma, in Italia si può fare. Io gli scarponi suoi me li vado a comprare di sicuro. Li avevo comprati con la marca lì Garmont, adesso vado a comprarmela. Stefania, scrivi, perché mi ha convinto questa cosa qua. Allora che lo trovo, li trovo. No, perché penso che bisogna valorizzare il lavoro degli altri e non essere invidiosi. Dobbiamo per una volta tanto tifare che la gente vada bene. Io ho detto, quando è arrivato, adesso ho cercato di fare un complimento dal direttore, così lo traduco e magari non capisca male. Mi sembrava un complimento. Nel senso che se noi riusciamo a ringraziare le persone che fanno delle cose, anche se questa cosa non ci riguarda di persona, creiamo un ambiente favorevole all'imprenditore, favorevole all'impresa, favorevole agli investimenti e alla fine vera, favorevoli a una bella vita, a una bella città. Invece noi vogliamo partire spesso dal contrario e dobbiamo parlare per contrario. Più di qualcuno oggi ha fatto degli accenni dovendoci quasi difendere. No, se pensate a quello che avete detto, quelli che hanno parlato, hanno dovuto continuare a dire ma noi non siamo così, se non fosse successo quello. Cioè, questa è una città che continua a piangersi addosso. Io penso che dobbiamo renderci conto che ci sono due modi di pensare diversi. Non c'è niente da fare, che vanno rispettati entrambi, ma certe persone non lo convincerai mai. Non c'è niente da dire. C'è chi vede, comunque, se tu gli fai vedere la luna, continua a vedere il dito. Sta roba ce la dicono da bambini, è la verità. A Venezia in particolare. È una città delicatissima, una città che io credo che soltanto persone che hanno coraggio, ci mettono la faccia, hanno coraggio di, in qualche modo, di occuparsene. Perché è molto più facile dire salviamo Venezia, bella Venezia, ciao, divertite. È molto più facile questo. Invece essere qua, anche soltanto arrivarci qui in centro, bellissimo quanto vuoi, ma lei ha visto il tempo che ci si mette per arrivare, poi dice adesso come vado a casa. E questa è una bella giornata di sole, altre volte c'è tempo, c'è mareggiate, ci sono... E poi è normale, scusatemi, è normale che il mondo voglia venire qua. Se tu abiti in centro a Venezia, a San Marco, ti devi portare pazienza. E insomma, non è che puoi viverci solo tu, perché le strade pubbliche sono pubbliche di tutti. Di quello che abita a Bassano, di quello che abita a Zellarino, di quello che abita a Spinea. Non è tua. Casa tua, ma la città è di tutti. E questo concetto di pubblico, quelli che vogliono fare la difesa del pubblico, non l'hanno capito. È incredibile. Cioè, chi più vuole difendere la cosa pubblica non ha capito che il pubblico siamo in tanti, con idee diverse se vuoi. Allora, io sono qui per dire che questa amministrazione nasce da una, penso da un'idea trasversale di sviluppo della città. Non c'è un'idea di parte, ma c'è stato un investimento personale da parte mia, personale nel senso sociale, non so come dirla, personale nel senso che mi costa molta fatica. Anche se non si capisce, non si vuole credere, si fa finta di niente. Ma io sto facendo veramente dalla mattina alla sera il sindaco gratis. E per me è gratis, e lei è un imprenditore, sa cosa vuol dire. Non è che mi lamento dei soldi che non prendo, mi lamento di tutto quello che non posso fare. No perché sono in conflitto di interesse, perché mi piacerebbe fare tante altre cose. Perché nella mia vita io produco, a me piace vedere il risultato. Ecco, io sono costretto a non fare questo, perché mi sono messo al servizio di questa dannata città, che amo tremendamente. E sentirmi spesso, e sentirci, che queste persone che investono, perché bene che l'avete fatto parlare per ultimo, perché così vi resta in mente la faccia di un uomo e ha detto ho rischiato di rompermi l'osso del collo, ma lo diceva per scherzo. Io non conosco il caso specifico, ma è evidente, ci ha dato dentro la casa, la famiglia, gli affetti, tutti bravi adesso a dire portiamo qua il caso, piloti, ma quanti invece al posto suo non ce l'hanno fatta. Quanti si sono mangiati tutto? E non stiamo dando responsabilità, semplicemente per fallire, per un fallimento, incapacità. Tutti bravi a dire abbiamo vinto, ma quanti applaudono anche quando si perde? Quanti sono in grado di sostenere gli sforzi prima di arrivare ai successi? Quanti sono disposti a discutere, come stiamo facendo stasera, oggi, meritoriamente, secondo me, tutti insieme, come ha detto il Presidente dell'autorità portuale, Pilo Musolino, che io non conoscevo fino a qualche mese fa, me l'hanno descritto bene, io ero per la continuità del Presidente precedente, perché io sono sempre molto dubbioso delle cose che arrivano da Roma, devo dire che invece, come persona, poi avremo tempo di, però abbiamo scoperto una gran brava persona, questa è la verità, poi avremo tempo di discutere, fare tutto quello che vuoi, però è una persona per bene, è una persona che ci può dare una mano. La stessa cosa posso dire di Enrico Marchi, caratteraccio, un imprenditore, gli hanno fatto di tutto in questa città, gli hanno fatto di tutto. No, nel senso che abbiamo litigato anche noi su tante cose, cioè non esiste il pensiero unico, io non sono del partito del pensiero unico, io sono del partito del discutere sulle persone. Se la persona mi convince, e poi c'è la democrazia, poi gli altri decidono, ma la cosa più bella, che è quello che dice Enrico, ma che penso anch'io, è l'articolo quinto. Cioè, comanda soltanto chi poi le cose le realizza. Solo chiacchiere, qua c'è gente che è bravissima nelle poesie, abbiamo avuto di tutti qui. L'università ha sfornato dei talenti come sindaci e non parliamo della politica romana, perché, Pino, la conca di navigazione, sorridevamo perché non hai nessuna responsabilità, evidentemente c'è un fio della Giudecca, non c'entra niente, c'è appena arrivato, ma la conca di navigazione l'abbiamo disegnata noi altri a Venezia. Cioè che ha fatto una conca di navigazione che sarebbe una specie di feritoia da cui le navi dovrebbero passare, ne ha fatta una sola a Malamocco, da cui dovrebbero passare quando il mose sarà chiuso. Cioè, per adesso, la conca è finita, non hanno ancora messo le paratie, le porte, per capire, è per il dislivello dell'acqua, con la conca aperta nessuno ha voluto provare la nave per vedere se funziona. Adesso, pensa qua, col bel tempo, perché chi è che va a risciare la nave là dentro? Cioè, questo è il senso, chiaramente noi siamo fiduciosi, siamo speranzosi, eccetera, siamo anche un po' incazzati, perché sono dieci anni che diciamo dove far passare le navi. Adesso do un'informazione, perché io invece le cose, io ho sempre detto, sono filo governativo, lo dico in senso propositivo, positivo, perché penso che anche fare il direttore del giornale sia difficile. Poi ognuno si assume le sue responsabilità sulla qualità del prodotto che fa. È difficile, lo sappiamo che è difficile. Però, devi avere un riferimento generale. Allora, il governo sta lavorando, credo che, insomma, io penso prima dell'estate, che il ministro dirà che il canale è quello Vittorio Emanuele e ci sarà un approdo per le grandi navi, parliamo delle navi bianche, navi commerciali, turistiche, insomma, la crociera, sarà sul canale che va verso Fimeccanica, sulla destra, cioè la parte, sarà due ancoraggi, tre ancoraggi, negli anni successivi poi, per le grandi navi oltre le 330 metri, sulla parte destra c'è quella che collega la città, diciamo, terziaria, quella che ha già subito una trasformazione, che è quella che è collegata al Vega. Allora, io il progetto sulla città l'abbiamo detto chiaramente. Il porto, visto che parliamo adesso di Porto Marghera, e meno male parliamo di Porto Marghera, anche se poi voglio raccontare, ci sono anche due o tre altri episodi, tra cui anche il quadrante, come diceva Enrico, così lo tranquillizzo, c'era il cuore, e penso che il tema vero che va affrontato, e l'hanno affrontato sia Omar, Lodesani, lo dico io perché nessuno l'ha detto, è il numero due di banca intesa, cioè, oltre ad essere un amico, va bene, però questo qua è un personaggio importante, ha comprato, questi sono comprati, sia comprati, adesso su questo è un bel affare, devo dire, insomma, io spero che il governo voti, sai che io sono per quasi comprati, diciamo che salvano comunque risparmiatori, e dipendenti anche tanti, e il sistema economico veneto. Poi avremo tempo nella storia, a fare la storia di cosa è successo in passato. Io non ero in quella storia lì, io l'ho sempre vista male, non mi è mai piaciuta, in effetti io sono in banca intesa da sempre, da quando era cattolica, ancora, insomma, dopo il nuovo Banco Ambrosiano, c'è la banca privata, io credo nei privati, credo fortemente nei privati. Se leggete la Costituzione, c'è la parola sussidiarietà. Cioè, voi siete privati insieme, siamo il pubblico, ma singolarmente siamo i privati. La ragione della sussidiarietà è credere che le persone che vogliono e possono fare, possono fare. Questo è il segreto di Dubai, di Boston, di Lisbona, dei grandi, di Berlino, se vogliamo che poi uno dica dobbiamo fare gli arabi. Cioè, ci sono dei luoghi dove, ci sono dei momenti storici dove si incontra la storia, fortuna, lo diceva Pino, la natura è così, fortuna, cambia in questo momento momenti storici, noi siamo pensati di una crisi tremenda, negli ultimi trent'anni, momenti storici, oggi potrebbe essere il momento di Venezia, però oggi intendo i prossimi trent'anni, perché a proposito di quello che diceva Matteo, Matteo Zoppas, presidente di Confindustria uscente e adesso presidente regionale, ha detto una cosa che secondo me è giustissima, il ritorno sugli investimenti, si tratta di capire quali investimenti, evidentemente, cioè ci sono investimenti, investimenti, a Porto Marghera deve esserci l'industria, l'industria 4.0, l'industria della trasformazione, l'industria innovativa, ma l'industria è collegata col Porto, è collegabile col Porto, molto più adesso di prima, Porto prima portava le materie prime, l'ha detto Pino, è così, il Porto e l'industria, per certi versi sono la stessa cosa, per quello mi sono arrabbiato sulle aree franche, e lui lo sa perché si è assorbito una svalinata di panolacce, cioè da lui non c'entra niente, ma qualcuno dovevo dirghe, cioè sul fatto che dobbiamo avere le stesse, no, dobbiamo avere le stesse, le stesse condizioni, noi non possiamo giocare una partita con le pietre in tasca, cioè Venezia da troppo tempo gioca le partite con le pietre in tasca, l'ha detto Enrico Marchi, ha detto adesso finalmente siamo arrivati che Venezia ci chiamano, penso che anche Enrico capirà che è cambiata la politica a Venezia, cioè cambiare la politica, cioè fare insieme, qualcuno l'ha già detto, insisto insieme, speriamo in cui giornali, almeno in cui giornali che sono, credo, di un'area che possono capire lo sforzo che i privati fanno negli investimenti, è fondamentale avere anche una comunicazione, che non vuole nascondere niente, ma è evidente che fa più notizia l'immondizia o un sacchetto non raccolto a San Marco che non in via Repubblica a Spinea davanti a casa mia, ma anche a casa mia qualche volta il cassonetto è sporco, a casa di mio papà adesso non abito più lì, però se faccio l'articolo lì non legge nessuno, non lo compra nessuno, è una questione anche economica, si deve anche capire questo, per cui il problema è riusciamo a leggere tutti noi, il pubblico in questo momento, tanti privati, notizie positive, sono disposto io a dire Veneto Sviluppo porta qui un testimonial, ci è piaciuto, bravo Veneto Sviluppo, ho coraggio, mi piace dire una cosa già, è un'informazione questa che leggerei e per cui pagherei un euro per leggerla, perché così lui la scrive, se invece andiamo a cercare soltanto la famosa trave nell'occhio, no, la famosa pagliuzza, scusate, nell'occhio dell'altro, è evidente che si continua per logica di mercato a raccontare la pagliuzza nell'occhio dell'altro, e continueremo a leggere articoloni grandi così sulle polemiche che un sindacato corporativo di una singola di una singola municipalità continua a fare per non cedere su privilegi, veri privilegi che ha, è una partita fortissima, l'abbiamo vinta nel privato, dobbiamo vincere nel pubblico, perché il pubblico poi, i dipendenti pubblici sono quelli che vi erano nei servizi e che rendono alla fine utile, come posso dire, competitivo il territorio, perché noi qui stiamo facendo uno sforzo enorme per dare la sicurezza, abbiamo parlato di sicurezza e di tradizioni, questa cosa della sicurezza la dimentichiamo sempre, io invece in questa occasione voglio ringraziare il prefetto di Venezia, Carlo Boffi, è una persona che ci sta aiutando tantissimo, il suo coordinamento assieme, adesso anche il nuovo questore, il comandante dei Carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, cioè tutte persone che ci stanno, lavoriamo costantemente a contatto perché noi dobbiamo evitare che qui diventi Marrakesh, questa è Venezia e non Marrakesh, qui dobbiamo fare delle regole chiarissime e dobbiamo cominciare a vedere che prima di tutti, certo dobbiamo rispettarle noi, ma devono rispettarle tutti, l'altro giorno siamo stati fino a ieri sera all'unici di sera perché c'è una banda di borseggiatrici che continua ad arrivare a Venezia, ma arriva da Milano e da Roma, le abbiamo arrestate un sacco di volte, continuiamo ad arrestarle, una era anche incinta, voleva il latte per il bambino, la prendiamo, la teniamo dentro, la dobbiamo mollare, le molliamo e ci ridono in faccia, cioè questo lavoro però che stiamo facendo a Venezia si vedrà, si sta cominciando a vedere, è durissimo perché si sono incastrati nella stazione di Mestre, sui sottopassi, davanti, dietro, ci stiamo dando dentro tantissimo perché questo serve e dopo parleremo degli investimenti, sarò rapido, però devo farvi capire che c'è un progetto di città che deve partire ai topino dove siamo, cioè questo siamo, è che voglio fare i conti, io non voglio dare responsabilità, anche se credo che una cultura ideologica dell'aiuto, così generica, gratuita, buonista, sia una cosa che creerà tantissimi problemi in Italia, io due anni fa, appena diventato sindaco, ho detto bisogna fare il blocco navale umanitario nel Mediterraneo, siamo l'unica nazione che non ha il presidio delle proprie frontiere, noi alla Marilla Militare non abbiamo dato nessuna autorità e nessuno ha votato un governo che ci abbia detto che togliamo i confini dall'Italia Sud, non è mai stato votata una cosa del genere, non ha nessuna autorità questa cosa qua e queste centinaia di migliaia di persone ancora ieri al telefono per evitare che ci mettessero profughi in centro, dietro, davanti, perché il problema non sono persone in difficoltà, il problema sono i numeri, la proporzione di certe cose, noi dobbiamo garantire la possibilità che il ritorno degli investimenti è legato alla disponibilità e alla chiarezza delle idee che ci sono sul territorio, adesso abbiamo tante persone che sono già entrate in Italia, non voglio fare numeri ma sicuramente più di un milione, queste persone tanto in Africa non tornano più, tanto vale che cominciamo a ragionare su come metterli a lavorare tanto per cominciare, ma di lì là contemporaneamente va chiuso, gli si mette il numero degli ambassiati e dice come si fa? Si fa che le navi devono raccogliere tutti per mare, si deve salvare tutti ma poi si ritorna dall'altra parte, non torna niente più in Italia, perfino Macron ci ha rimandato, penso che tutti possono dire che è un fattore di novità in Europa, di aggiornamento ma le frontiere ognuno si guarda anche la sua, è che possiamo continuare a chiedere aiuto, ma aiuto di cosa? Ma aiutiamoci da soli, Venezia si è rimessa in moto, abbiamo incontrato ambasciatori americani, israeliani, russi, sta arrivando di tutto a Venezia perché prima di arrivare i soldi arrivano le persone, sono le persone che devono sentire che in questo luogo noi vogliamo risorgere, ci vorranno i prossimi vent'anni per il ritorno degli investimenti, ci vuole la stabilità, cioè uno deve dire ma cosa succede dopo? Intanto dopo sono ancora mi, perché mi ricandido vedrete, perché non è possibile che pensino che vado via, perché io, guardate, oggi, oggi io faccio due anni, cioè due anni il 2 luglio, il 2 luglio, ecco ho pensato di festeggiarlo qua, perché i festeggiamenti che mi hanno riservato è una bella manifestazione all'arsenale per dire salviamo Venezia, non si capisse come si alza mattina qualcuno che abita là, oggi che gira così il sole, forse non si arriva i soldi giusti e il povento giusto, perché così funzionava, i posti di lavoro, la casa regalata, tutto regalato per diritto, a qualcuno ha capito male, se pensa che le manifestazioni mi agito, mi entusiasmo, a me la tranquillità, quando se tutto è a posto vado a casa mia che ho altro da fare, ma intanto finché c'è la battagliare però abbiamo bisogno di voi, ho bisogno dell'intelligenza di persone che investono, non è una questione partitica, se ce la facciamo a Venezia, l'ho spiegato al governo, l'ho spiegato alla regione, credo che siamo tutti d'accordo, se Venezia riparte, e se non riparte Venezia sinceramente cominciamo a domandarci di trasferirsi veramente, riparte Venezia, diamo un segnale, diamo un esempio che può ripartire l'Italia, allora le persone, i bambini, i bambini, quelli che ci sono oggi e quelli che non sono ancora nati, a quelle persone è dedicato il mio intervento, certamente non a quelli che sappiamo già tutto, sappiamo già tutti i problemi, non vi faccio nessuna analisi, vi dico soltanto e finisco dando soltanto una carellata di dati, se no sembra che abbiamo fatto solo discorsi, ma non sono discorsi a vuoto, la sicurezza e il recupero delle tradizioni concrete sono il futuro di Venezia, la specialità, discorso dell'albergo, io gli investimenti devo prendere quelli che ci sono, non quelli che mi invento io, non c'è l'economia sovietica dove decidiamo chi, dove e cosa, oggi quello che c'è, perché noi cerchiamo il posto di lavoro, per cui a Marghera ci sarà il porto e ci sarà, ci sarà il mini offshore fuori, proprio perché le grandi navi non riusciranno a entrare e porteremo dentro con le chiatte, all'area del sindia che abbiamo bonificato ci saranno i container e la trasformazione e vedrete che ce la facciamo a farci dare anche il decreto per le zone franche, c'è Damaso qui che ascolta e ne ha fatta una battaglia da sempre lui e lo sa quanto io sono d'accordissimo, noi avevamo detto di farla a macchia di leopardo, proprio perché siccome ci sono già delle situazioni in piedi che non hanno interesse a ricadere nell'area franca, noi dobbiamo dare il decreto all'autorità portuale, la chiamo anch'io ancora così per semplicità, perché se no il nome che hanno fatto è molto più blasonato, eccetera, ma come diceva anche Damaso dobbiamo dare l'autorità a lui di scegliere le aree a macchia di leopardo termini che hanno utilizzato esattamente uguali a Trieste. Io invidio tantissimo il mio amico di piazza perché poi lui è sindaco della stessa mia area e c'è il portacasa una soddisfazione così la Seracchiani era lì, ma l'idea di usare parteticamente le città è sbagliato. Noi dobbiamo pensare ai cittadini e dobbiamo avere le stesse condizioni operative. Qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un piano del sindaco per tradurre in cose concrete, presentato a metà di giugno dell'anno scorso e se venivo qualche mese fa vi avrei detto che sono state presentate 200 proposte di investimento invece siccome scadeva ieri sono state presentate 275 progetti per centinaia e centinaia di milioni di euro che stiamo vagliando perché abbiamo mandato degli chiarimenti a ogni singolo investitore per capire che tipo di investimento fosse, mi intendo, se è proprietario della terra dove vuole fare la fabbrica piuttosto che la sua unità, quante persone verrebbero coinvolte dal proprio attività, se ha la finanza propria o se pensa di andare ad abbi ci sono alcuni che vogliono sviluppare per poi rivendere io voglio trovare chi ha l'origine dei soldi che ci mette di suo perché se no però quello che manca oggi in Italia mancano investimenti mancano idee mancano progetti e mancano persone che appunto rischiano fra virgolette l'osso del collo e che vengono anche omaggiati quando gli va bene che è giusto che sia così perché all'estero è così. Abbiamo sviluppato una serie di progetti che stiamo realizzando in silenzio una centrale unica di sicurezza in contatto continuamente tra vigili prefetto questore procura cioè tutti insieme una generale video sorveglianza un grande fratello in tutta la città metteremo i cartelli anche di controllo nei confini delle strade metropolitane quando si entra a Venezia ci sono stiamo proprio studiando in questi tempi abbiamo dato l'incarico delle aziende specializzate dove ci sono delle telecamere che fotografano le targhe delle auto che passano sotto e con un sistema immediato capiscono se l'auto è rubata o non ha l'assicurazione già presente o non ha fatto la revisione si accende il pannello e scatta l'allarme alla centrale sorveglianza i carabinieri basta che si mettono 200 metri dopo e vedono accendersi la luce e fermano l'auto ovviamente col mitra perché chi viene a rubare a casa vostra non lo fa con la macchina sua di solito di solito è un po' birbacione ecco sapranno che quando passano a Venezia qui li perquisiamo dappertutto e stiamo facendolo lo faremo anche sui bacino lo faremo anche per il moto ondoso a Venezia che poi qualcuno non si lamenti che arriveranno i provvedimenti ci saranno provvedimenti e severi per chi uscirà dalle regole chiederemo all'autorità portuale alla capettinaria di porto lo facciamo lo stiamo già facendo da due anni con la guarda di finanza e con la procura repubblica stiamo denunciando tutte le persone che si comportano male a Venezia che non pagano che non denunciano il proprio appartamento o il proprio band and breakfast o quello che è perché basta che lo denunciano noi non siamo contrari dobbiamo essere chiari le tasse le pagano tutti perché tutti devono essere nello stesso dopo possiamo chiedere a tutti al governo di abbassarle le tasse questo è evidente ma allora quando abbiamo la coscienza pulita per cui gli appartamenti abbiamo messo un sistema mai pensato stranamente non si era mai pensato e ne abbiamo di cervelli a Venezia professori che danno messaggi continui però non avevano mai pensato di fare un portale vi invito ad andarlo a vedere del comune semplice costato niente fatto con dipendenti comunali sufficientemente motivati sempre con grande entusiasmo l'hanno fatto costo zero per le collettività abbiamo andato dentro il portale ci sono tutti gli appartamenti che sono autorizzati per poter ospitare i turisti cosa vuol dire che se per caso dovete prenotare a Venezia e avete l'indirizzo del vostro appartamento potete andare a vedere online se l'appartamento esiste se è un appartamento ufficiale che paga la tassa di soggiorno se non lo è sullo stesso sito potete denunciare direttamente o anonimamente il sito sono già arrivati in pochi giorni in un mese che è più di 49 denunce ovviamente passate tutto alla guardia di finanza alla procura andremo a fargli un mazzo così perché oltre all'idea della tassazione che è la sciocchezza da un certo punto di vista ma è importante perché se la pagano gli altri la paghi anche tu c'è il problema della sicurezza sul terrorismo noi siamo l'unica città in Europa aver fermato quattro terroristi prima ancora che si muovesse ha detto che volevano buttare giù il ponte di rialto nelle intercettazioni così andavano direttamente da là abbiamo detto ti va lo stesso da là se si buttare giù il ponte di rialto abbiamo chiuso è stata chiusa volontariamente con grande soddisfazione del generale eccetera eccetera ma mi ho fatto l'ordinanza a Gossarada penso l'unico in Italia in silenzio una moschea non è una moschea era su un posto su un magazin ai 5 del mattina a Mestre stai qua 5 del mattina vado a gioco a massa da baseball questi erano anni che si ammagnava mi hanno detto andiamo a pregare in piazza Ferretti ho detto no no non si può neanche pregare in piazza Ferretti hanno trovato abbiamo dato una mano a trovare un'altra soluzione adesso si prenderanno compreranno loro con i loro soldi un cappanone su una zona dove non c'è gente che dorme e ognuno fa liberamente il suo culto la sua credenza le sue cose ma sempre con rispetto degli altri a Venezia col cavolo non avevamo coraggio avevamo coraggio sì se no c'erano ancora le zanzare a quel tempo e a Marghera bisogna ritrovare lo stesso coraggio perché adesso c'è i pantegane radioattivi a Marghera con gli occhi sfofolescenti bisogna agire e siccome stiamo agendo col Ministero dell'Ambiente con grande silenzio ma con grande determinazione spero fra un po' di avere questo nuovo regolamento sulle bonifiche insieme con la Regione adesso non c'è l'assessore ma è presente lui e tutti i suoi tecnici costantemente chissà perché quella è una precondizione perché il ritorno degli investimenti possa essere oltre che certo il ritorno ma anche certo nei tempi perché non basta essere certi nei costi è importantissimo avere certi i tempi siamo quelli che hanno approvato il Consiglio Comunale lo diciamo perché c'è da gente che ci ha messo la faccia perché poi devi vederli gli ambientalisti ti gara a sentirli ti va via dei cranio ti provocano e voi provocate il parò tu ti stravogano dovresti vederli e abbiamo approvato il masterplan senza batter ciglio di Enrico Marchi se no lui l'aeroporto lo fa non lo fai lo sa quanto ha lavorato in salita prima e quanto l'ho ringraziato e mi sono scusato come città però devono esserci tanti gli attori e allora c'è il porto c'è l'aeroporto ma bisogna dirlo c'è anche la fibra perché noi siamo una delle cinque città scelte da Renzi bisogna dirlo perché il governo su questo quando andiamo tranquilli ci aiuta ci ha aiutato la regione ci aiuta lo Stato ci ha dato in quelle cinque città c'è l'Enel che sta occupandosi della connettività della fibra che solo una di queste cinque città in Italia avrà casa per casa noi abbiamo la fibra ottica e che vuol dire avere la connezione non è soltanto fisica porto, aeroporto, autostrade, ferrovie non c'è Mazzoncini ma va ringraziato per il lavoro che sta facendo e la connettività che porteremo all'aeroporto sempre con la Berti con la regione perché in silenzio stiamo facendo tutti altra novità che abbiamo sbloccato completamente la stazione di Gazera i lavori dovrebbero partire adesso o prima fino all'inizio dell'anno prossimo un blocco completo dato da finanza da case ma soprattutto da cause da cause il buco del Lido il Lido un luogo meraviglioso l'abbiamo dato un imprenditore dell'aeroporto perché faccia un aeroporto comprato pagato e farà investimenti privati anche grazie a una collaborazione insieme a Save e a tutti gli attori coinvolti Camera di Commercio senza batter ciglio gli articoli erano due righette sul giornale però stiamo rilanciando tutto abbiamo chiuso il buco del Lido no ma aspetta ma senza spendere un soldo non abbiamo messo soldi pubblici anche perché ho trovato 800 milioni di euro di debito mi viaggio sul debito ormai sono un navigante però abbiamo abbassato il debito non stiamo facendo azioni per incrementare il debito mi ha detto sindaco ma che te frega fai un altro muto butta avanti il bain e no signori non funziona così no perché a quei bambini quei bambini non hanno votato per pagare il debito i nostri noi già ne pagheremo tanti di quelli che ci hanno lasciato adesso bisogna cominciare a essere razionali il Lido abbiamo chiuso il buco abbiamo chiuso non so quante cause aperte biennale la stiamo rilanciando c'è Baratta che è un presidente nessuno si è intromenso nel lavoro specifico di un altro abbiamo soltanto collaborato per poi sui luoghi comuni nei luoghi di comunità ritrovarci insieme come stiamo facendo oggi e più siamo meglio è abbiamo costituito una fondazione l'abbiamo chiamata agenzia di sviluppo sempre costo a zero tutti gratis se non paga nessuno per capirci non c'è soldi che gira questa me l'ha data prima il buon il buon Piro che è il presidente Beniamino Piro il presidente di questa città e di questa agenzia del comune un'agenzia di sviluppo Beniamino Piro Piro anche è a gratis tutti lì eccolo là presente e ecco qua lui mi ha dato questo depriano adesso così al volo questi sono è un esempio questi sono i patrimoni della città di numeretti è solo un esempio per farvi capire quando arriva l'avvocato dell'arabo perché arriva l'avvocato dell'arabo l'arabo viene soltanto a festeggiare dopo arriva l'avvocato che si porta dietro l'avvocato di Milano di Roma perché i nostri avvocati non si è degni speriamo invece di rilanciare anche questi perché abbiamo dei signori principi del foro qui giovani in gamba che vanno valorizzati e ci dicono invece che una volta arrivavano e andavano a cercarsi gli investimenti a casaccio cioè noi abbiamo fatto un'agenzia di sviluppo e chi pubblico o privato vuol vendere o comprare qualcosa a Venezia può venire in un'agenzia di sviluppo che abbiamo fondato e gli facciamo vedere i numeri lui prende vede di cosa si tratta sono cose pubbliche che in questo caso vendiamo ma ci sono anche cose private e c'è una scheda col tipo di investimento può essere immobiliare ma anche immobiliare una quota di un'azienda lui stesso avrà avuto l'informazione da qualche suo amico ha guardato lui sull'internet dove ci sono le vendite giudiziari cioè ci sono delle persone che cercano dicono io sono interessato a sviluppare quel business quell'area a fare delle partnership delle alleanze chiaramente insieme noi come istituzioni dobbiamo creare quella rete di sicurezza per cui quello che viene dice beh intanto è tutto chiaro poi non vengo fregato per cui prima di fare questo facciamo delle verifiche perché poi nelle attività e poi ci sarà sempre qualcosa che non andrà bene sicuramente però l'idea del rilancio dell'agenzia dello sviluppo è questa per costruire i posti di lavoro ecco vi finisco soltanto con quelli che sono gli investimenti pubblici che abbiamo già avuto avuto nel senso abbiamo siamo riusciti a portare qua in città io sono qua vorrei ricordarlo da due anni allora po' metro 40 milioni abbiamo i progetti ormai sono in fia di chiusura per cui cominciamo a erogare cominceremo gli investimenti sono tutti legati alla centrale che vi dicevo prima unica a una grande impianto di video sorveglianza di assistenza un numero unico generale della città dove uno chiama ti rispondono anche in lingua dove ti dici dove sei ti andiamo geolocalizzato andiamo a vedere tutti i canali navigabili quelli che ci sono da scavare quelli che sono mezzi che funzionano con l'acqua alta ma non con l'acqua bassa perché le autobulanze possono andare in città un sistema di prevenzione su questo abbiamo veramente siamo stati molto contenti del nuovo comandante dei vigili del fuoco che è arrivato a Venezia una persona giovane molto molto in gamba su cui stiamo lavorando tantissimo per efficientare la parte di città che non è ancora preparata per l'antincendio per cui abbiamo chiesto il comitatore del governo perché senza una parola di polemica perché ci rendiamo conto che lo Stato ha i suoi problemi però noi stiamo nel frattempo cercando di sopperire a una serie di mancanze per cui questa cosa dei canali dell'arrivo dei tempi degli sgomberi anche in qualche caso dovesse essere utile farli parlo sgomberi di sicurezza poi la sicurezza idraulica dell'usore ci hanno finanziato 61,8 milioni per la sicurezza idraulica dell'usore mandato dato alla regione e alla città metropolitana di controllo 61 milioni che cominceranno penso a breve legge speciale ci hanno dato 65 milioni di euro già dati nella finanziaria del primo anno trasversali anche questi qui chiedo continuamente di indire il comitatore perché questi soldi posso averli in contanti perché oggi sono fermi lì ormai non ce li toglie nessuno ma io qui non li posso spendere l'Enel che sta investendo 50 milioni per la connettività non li dà a me ma li spende in città 50 milioni li sta già spendendo casa per casa stiamo portando la fibra vuol dire potersi connetta alla velocità della luce vale bene per i privati e anche per quelli che verranno a risiedere a Venezia perché per portare gli investimenti deve rendere anche la città attrattiva sotto il profilo della vita perché una bella città fa sì che lo scienziato piuttosto che il manager importante di cui parlava lui prima poi dica beh Venezia meglio che andare in India magari ma la competizione di una città si gioca sull'università sulla capacità di far studiare i figli di far sì che i figli possano andare al conservatorio e qua voglio ringraziare tutte le università veneziane l'altro giorno abbiamo presentato questo accordo che abbiamo fatto tra università conservatorio e belle arti oltre che lo Uav e a Ca' Foscari perché pensiamo che le persone che devono venire a lavorare nelle fabbriche e non soltanto così gente che viene a studiare soltanto possa anche portare i figli e possano trovare un sistema universitario di primissimo livello dobbiamo portare qua cittadini europei qua tedeschi francesi spagnoli dobbiamo fare i corsi in lingue dobbiamo far sì che Venezia sia a pieno titolo una città europea e fortemente europea questi giovani porteranno novità porteranno risorsa energia ci daranno quella vediamo se uso delle parole buone senza esagerare si daranno quello spirito quella carica che qualche magari nostro sovietico ancora più non ha se vuole andare va uno va e l'altro riva non è detto che per forza devono stare qua tutti quanti ecco qua fa la manifestazione il due stia tranquillo dopo la mazza da baseball di prima può andare tranquillo posso andare tranquillo ma c'è gente che veramente abbiamo trovato che va a portare l'immondizia a mestre con la mazza da baseball e questa è la cosa vergognosa che non è una battuta è vero tutto quello che ho detto purtroppo è tutto vero anche se io la giro a livello di battute e attenzione che se succede qua poi può succedere dappertutto allora forse è il momento di fermarsi fermiamoci a riflettere c'è un privato per cui ognuno fa i suoi interessi le sue cose è giusto nessuno vuole insegnare niente a nessuno ma c'è anche un pubblico e guardate che l'idea pubblica della vita è molto importante perché può capitare a tutti vi garantisco può capitare a tutti dicevo lei è del 50 milioni poi bando delle periferie città metropolitana 40 milioni anche qua abbiamo portato 40 milioni come città metropolitana e abbiamo portato 18 milioni sul bando delle periferie del comune e su quelli 18 milioni invece che far giostrine roba che mi farebbe prendere voti non so che capisse ho concentrato tutti per ristrutturare la seconda parte del tribunale a Piazzale Roma tribunale civile e penale che era in una condizione purtroppo la metà ancora di scollegamento cioè c'erano gli uffici sparpagliati dentro la città e sappiamo che la giustizia la giustizia veloce è una prerogativa per un alluogo e Venezia si candida a essere metropolitana per cui è un segnale e una precisa attenzione al mondo della giustizia perché gli investitori stranieri vogliono e pretendono velocità nella giustizia e per cui abbiamo voluto dimostrare noi con soldi nostri patto per Venezia abbiamo firmato l'ha ricordato prima è stato ricordato prima il patto per Venezia col primo ministro Renzi 457 milioni di cui 110 verranno presentati adesso prossimamente così non vi anticipo oggi però 110 milioni che saranno dati in giro per la città cioè noi andremo a ristrutturare praticamente tutto tutti i micro interventi tutte cose molto precise che vanno a fare manutenzioni straordinarie e sistemazioni della città il totale in sostanza in questo anno io porto a casa in questi due anni 731 milioni di euro di finanza pubblica ma soprattutto sono arrivati tanti investimenti privati quattro alberghi l'altro giorno che non sono solo alberghi tra l'altro a Mestre che vuol dire anche una situazione di pulizia generale di un'area che era completamente distrutturata ci sono investimenti veri ci sono le gru di un altro che ormai sta quasi finendo uno che ha scritto su un'area un po' abbandonata sulla rampa del cavalcavia quando io mi sono eletto sindaco a carattere cubitali perché a me non risparmia niente ma non sono scherzi Brugnaro fai qualcosa ero appena stai eletto ho tirato su un palazzo posso arrivare all'ottavo piano e ho scritto Brugnaro basta così però è vero il palazzo abbiamo cominciato perché quelli sono investimenti e ogni investimento fatto nell'edilizia ha una ricaduta sul territorio in quel momento nel periodo del cantiere di 10 volte superiore per il benessere del territorio attorno solo questi alberghi sono più di 200 posti di lavoro basta poi c'è gli investimenti di Marchi Musolino l'abbiamo già detto sulla zona franca l'ho detto il ritorno all'investimento stabilità politica per gli anni futuri è necessaria però soprattutto è necessario che ci sia da parte di tutti non tanto la voglia di parlare bene di Venezia io sono uno che ha organizzato la sua vita pensate facevo le costruzioni delle reti commerciali i piazzisti e i rappresentanti sono stati per me quasi la base della mia vita perché io li cercavo li selezionavo sono abbastanza bravo a costruire reti commerciali però io non parlerei di piazzista adesso il piazzista a quel tempo era uno che vendeva un po' tutto venghino venghino andava ben tutto qui si tratta di raccontare effettivamente quello che c'è cioè noi stiamo parlando di veramente una delle più belle città d'Italia invito tutti ad andare in giro per Milano andate a Modena andate a Parma andate alla sera ecco Marrakesh è un scherzo venite poi qua e forse dite beh tutto sommato sarà il caso che diventiamo un po' più internazionali non andiamo soltanto a vedere cosa fanno gli altri ma crediamo un po' più in questa città questo tipo di appuntamento visto che ho capito che deve essere stabile eccetera eccetera sarà occasione poi di racconto così a prossima volta vengo con un filmato degli articoli che hanno raccontato la nostra città il prossimo anno quest'anno l'ho evitato perché ho pensato che sennò partivo già col piede sbagliato ma il prossimo anno sarebbe bello vedere come la città è stata raccontata perché se lo faccio vedere adesso qualcuno si amareggia e non lo voglio fare siccome sono ancora convinto che si può cambiare idea si può provare a fare un ulteriore passo perché le critiche vanno bene ma bisogna anche segnare un punto a quelli che fanno le cose perché sennò tagli l'idea dell'emeritocrazia è giusto dire lì c'è un problema là ce n'è un altro va bene ma è anche giusto dire sì però attenzione qui sta facendo l'ha risultato qui stiamo facendo cioè perché sennò le persone che ascoltano e non sanno non hanno le informazioni che tanti di voi hanno rischiano di vedere sembra che lo Stato non ci sia e allora poi le derive sono vabbè tanto peggio tanto meglio e col Waffa eccetera eccetera che forse quella non è proprio la deriva che tutti ci auspichiamo mi auguro grazie 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 al sindaco al sindaco di Venezia mi sono preso l'appunto finale ovviamente non va va benissimo no volevo no ma assolutamente ci sono anche altri assolutamente no volevo tranquillizzare chi era Musolino prima che è stato citato perché è stato un po' lui no così no ma questo capita anche al direttore del gazzettino lo fa molto lo fa molto meno di quanto vorrebbe perché anche io ho il mio caratterino quindi si cautela ma insomma non si trattene nei confronti di nessuno comunque comunque a parte a parte queste a queste battute grazie al sindaco Brugnaro per per una serie per i numeri ma anche per l'approccio che ha dato a questo suo intervento certo era stato citato per aver indicato Dubai come modello ci ha introdotto Marrakesh quindi per così dire siamo su un crinale se facciamo le scelte giuste possiamo diventare Dubai se facciamo quelle sbagliate rischiamo di precipitare e di avvicinarsi a Marrakesh ecco questo appuntamento ovviamente è finalizzato a farci diventare Dubai o comunque a individuare questo modello per il resto la regia prevedeva che io chiudessi i lavori in realtà non li devo chiudere non li voglio chiudere perché c'è una seconda parte più operativa perché come abbiamo detto questo è il primo di una serie di appuntamenti quindi non c'è bisogno di chiudere oggi abbiamo aperto e continuiamo a lavorare devo però anche fare un annuncio in questo caso quasi commerciale dicendo che adesso c'è un light lunch cioè si mangia detto con grande franchezza per chi vuole grazie a tutti per l'attenzione e buongiorno grazie a tutti